Lo affido, lo voglio fidare e in questi cinque anni vorrei pregare i giovani a farsi avanti per continuare le cose che abbiamo fatte e soprattutto per attuare altri grossi progetti strategici. Nel documento programmatico che è alligato al libro abbiamo parlato di due progetti, il rilancio dell'agricoltura, la Parkway che è un progetto di sviluppo integrato e una pianificazione che riguarda l'intero bacino che comprende il territorio di ben 25 comuni con una popolazione di 52 mila abitanti. Credo che il Signore vi darà la forza in questi cinque anni di portare, di avviare quantomeno entrambi questi due progetti. Franco Chirico resta alla guida del Consorzio Velia a deciderlo gli oltre 1470 consorziati che nella giornata di ieri si sono recati alle urne per il rinnovo dei componenti del Consiglio dei Delegati del Consorzio per la Bonifica dell'Alento di Pregnano Cilento. La lista Il Cilento che vogliamo con 27 candidati capeggiata dal presidente uscente ha avuto la meglio sulla lista alternativa Democrazia e Diretti dei Consorziati che aveva solo 4 candidati per la fascia 1. Lo scrutinio iniziato subito dopo le 20 si è concluso intorno a mezzanotte. Il candidato consigliere più votato Raffaele Passarelli con 411 voti a seguire l'avvocato d'aiuto poi Cuda, Marino e Fedullo. Nel pomeriggio di oggi l'ufficializzazione del nuovo Consiglio. A conti fatti la vittoria di Chirico non era in discussione. L'unica incertezza è arrivata alla vigilia delle consultazioni quando dalla regione era trapelata la notizia di un possibile stop a causa di un ricorso presentato da alcuni consorziati. Nessuna irregolarità ha tenuto a precisare il presidente. Le elezioni si sono svolte regolarmente. Alle urne si sono recati il 25% dei 7703 aventi diritti al voto residenti in 18 comuni. 12 consiglieri eletti. Chirico, forte del consenso ottenuto, è pronto a portare avanti il suo modello di sviluppo. Ha già nel cassetto due progetti. Parkway Alento, sottoscritto con i comuni, e un piano di rilancio dell'agricoltura da realizzare con la Col di Retti. Progetti secondo Chirico realizzabili se il territorio esce dall'immobilismo e soprattutto se si supera la posizione di chi vuole usare gli enti per proprie finalità, trasformandoli in baracconi costosi e parassitari.